Eccoci qua, questo è uno di due video sulla gara dell'Argentina, perché ci sono due temi abbastanza importanti. In Argentina, diciamolo, va in scena una gara senza senso, viziata da un blackout della reazione gara che cambia le carte in tavola e scatena un'isteria di massa in pista e fuori. Miller è l'unico a scegliere la situazione d'azzardo con gomme giuste e gara dichiarata bagnata. Hanno torto gli altri 23, sembra strano, a cui invece viene consentito di andare a cambiare le gomme, ma invece di ripartire dalla pitlane come del regolamento, si configura una griglia strana, democristiana, con Miller in testa e gli altri tutti staccati di tre file simboliche che non significano nulla. In fase di partenza, Marquez spegne la moto e invece di partire dalla pitlane come del regolamento e come intimatogli, fa come gli pare, fa un contromano, fa manovra, sembra un meccanico che sposta le moto in officina a mezzo culo sulla sella e riparte normalmente dalla sua casella. Fra le proteste, va detto, di altri piloti. È il secondo definitivo errore della direzione gara che vizia per la seconda volta un Gran Premio del Mondiale. In fase di gara poi Marquez ne combinerà di diverse e di più gravi, beccherà un ride through e una cessione di posizione a causa prima della partenza autonoma e di una entrata pericolosa sulla lescia e Spargaro. Di entrate pericolose ne farà anche un'altra, ne farà intanto anche una Zarco che non sarà penalizzata su Pedrosa e una anche Petrucci su sempre Spargaro. Fino a quella di Marquez su Rossi, inutile e pericolosa. La cronaca di gara insomma la conoscete, sapete com'è andata e mi dispiace far passare in secondo piano la vittoria di Crutchlow e il secondo posto di Zarco e il terzo posto di Rins, però quei temi di discussione sono altri. Dovete sapere che tutto è stato deciso prima, nel senso che Marquez come un pitbull con un padrone spaventato ha corso senza regole una gara senza organizzatori. Come al solito bastava gestire le cose da prima ma forse davanti non c'era quello giusto che è stato lui sì alla fine derubato, Miller. Credo di aver visto oggi il peggior gran premio della storia del motociclismo dal punto di vista organizzativo, la prima entità da incriminare la Dorna che ha perso completamente il controllo. La situazione della partenza è stata aberrante e Dorna ha dimostrato di non saper gestire le emergenze, oltre ad aver dimostrato quanto il regolamento sia inadeguato alla MotoGP di oggi e inadeguate alla MotoGP di oggi siano le persone che gestiscono il tutto. Saranno anche professionisti, ma non c'è una volta che non vadano nel pallone nel momento del bisogno. Ad ogni emergenza c'è sempre una situazione assurda. Lo schieramento in griglia con Miller davanti a tutti gli altri non in pitlane ma a 30 metri indietro e basta? Sono un'offesa ad un libro, quello delle regole, che dovrebbero conoscere tutti e invece non lo conosce nessuno. Sembravano le formiche quando accendi la luce che vanno da una parte a quell'altra. Pochissimi fratti manager, piloti addetti ai lavori, non parliamo dei commentatori, sapevano cosa andava fatto. E Dorna ha fatto una fesseria, ha scelto la soluzione democristiana di non far casino, facendone invece di più. Invece di mandarli tutti in pitlane ha scelto un compromesso che è stato la causa di tutti i casini che sono successi in gara di seguito. Parlano tanto dei privati che con il loro colpo di genio possono fare la differenza. Invece Miller viene privato di un vantaggio che lui e il suo team, unici professionisti, si sono costruiti col cervello due volte, prima sabato e poi domenica. Il team Prama che è formato da professionisti mentre ad esempio a Yamaha non c'è una dirigenza e poi ci torniamo. In Dorna hanno consentito questa fesseria qui e poi hanno consentito a Marquez che andava, che aveva spento la moto, di riaccendersela facendo un contromano e rimettersi in griglia sbattendosene nell'ordine dell'ordine di andare in pitlane nonostante le dimostranze degli altri. Tutto in diretta tv. È stato tutto questo che ha consentito a Marquez di perdere la testa e andare per la tangente. Il fatto di non essere riportato alla ragione da subito. Invece la mancata penalità della partenza ha causato eventi che non ci sarebbero dovuti essere. Punto. Nemmeno lo spegnimento della moto in griglia ci sarebbe stato se da subito fossero stati mandati tutti in pitlane. E sti cazzi che erano tanti. Le regole sono regole ed ecco il risultato. La realtà è che la Dorna è terrorizzata fra l'incudine della monotonia e il martello della lesa maestà che adesso è duplice, non c'è più solo Rossi, c'è anche Marquez che reclama il suo. Adesso vorrei parlare di questa cosa qui, del comportamento di Marquez che è scelerato. Ha una gara nera in cui non capisce un cazzo e ne combina di ogni, trasformandosi in una sombra fra Selve Senne e Villeneuve quando gli si chiudeva la vena. Però alla fine va a scusarsi. Scusi ipocrite? Ne devono parlare i protagonisti. Uno dei due non vuole? Ok. Chi gestisce la situazione? Le parte in casa. Ossia la Yamaha è la Honda. Invece arriva Uccio, il cui ruolo Yamaha io non trovo da nessuna parte, e si mette a sbraitare contro Marquez. Che è come se io litigassi con Borghi di Motosprint e lui venisse a scusarsi e la signora Valeria, che è quella che mi sistema la casa, lo mandasse a fanculo. Cioè oggi ti ho fatto i funghi, ti ho messo la posta sul tavolo e ti ho cacciato Borghi di Motosprint perché avete litigato e non si doveva permettere. Una roba così. Io ho rivisto tre volte la scena di Uccio, coi calzini bianchi, che è forse la cosa più grave, che mandava a fanculo Marquez e compagnia, mentre Galbusera non si è visto, Mere Galli non c'era e Jarvis guardava da dietro. Jarvis che è il managing director di Yamaha Racing, il direttore generale, ossia quello che fa il giorno e la notte in teoria, ed evidentemente non lo fa. Il capo è Uccio con i calzini bianchi, caccia Marquez e i suoi dal box della Yamaha urlando e gli dice non so che cosa. L'ho guardato tante volte perché non ci credevo. Cioè Uccio is the new Jarvis, Uccio is the new Espeleta. Detto questo non è finita perché c'è una roba davvero sconcertante che mi spaventa un po', ossia le dichiarazioni di Rossi che vediamo in un altro video.